Ci troviamo al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro per annunciare un evento che sabato prossimo, oramai a poche ore, caratterizzerà l'intera giornata. Ne parliamo con Polidori e D'Ortolani che sono due degli organizzatori. Si tratta di una maratona su Tapirulan a scopo, come dimostra e ricorda il cartellone alle nostre spalle, altamente benefico. Sì, certo. È l'ennesima manifestazione che portiamo avanti per creare cultura al momento di fare diagnosi del diabete tipo 1 al momento dell'esordio. Nella fattispecie una maratona su Tapis, sono stati coinvolti su tre Tapirulan, messi, diciamo, offerti dalla palestra Alte Regolo di Sansepolcro, sono stati coinvolti circa 72 atleti. Questo che andrà in scena qui al Palazzetto dello Sport, la cittadinanza è invitata ovviamente a partecipare, è uno dei tanti eventi che portiamo in giro per l'Italia perché attualmente questo libro è stato ristampato dalla casa editrice MB Edizioni, quindi lo troviamo in tutta Italia, la Feltriniella, in tutte le catene. E questa sarà l'occasione per portare l'esempio di Jacopo che così tanto cattura in Valtiberina, in Toscana, in Italia, speriamo che varchi anche i confini nazionali. Ed è per questo che facciamo tutte queste operazioni per portare il suo esempio che tanto ci ha aiutato qui in Valtiberina nel capire, nell'affrontare le varie patologie e che vogliamo che in Italia poi tutti gli altri riescano a condividere per portare avanti questo messaggio che lui con grande coraggio porta avanti ormai da qualche anno. Grazie a tutti.